44 grammi di hashish trovati in un'abitazione a Sapri. Una persona ai domiciliari, si tratta del trentenne Antonio Maglia. Sarebbe stato un buon quantitativo di droga da smerciare sulle piazze del Golfo di Policastro in occasione dell'inizio della stagione estiva, quello che i carabinieri hanno scovato e sequestrato nelle ultime ore nella città della Spigolatrice. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della locale compagnia, guidati dal capitano Matteo Calcagnile, avevano notato insoliti ed anomali movimenti nelle vicinanze di una casa che si trova nei pressi della zona delle cooperative, in uso a Maglia, un giovane che aveva già precedenti specifici. Dopo qualche ora di appostamento da parte di alcuni carabinieri in borghese, si è deciso di far scattare l'irruzione nell'immobile. Poco dopo aver iniziato la perquisizione, dagli indumenti del trentenne è subito saltata fuori la somma contante di circa 1000 euro provento di spaccio. Nel corso delle operazioni all'interno della cappa della cucina, i carabinieri hanno anche scovato l'involucro contenente i 44 grammi di hashish, mentre dietro la porta è stato trovato il bilancino elettronico ancora intriso della sostanza con cui venivano pesate le dosi. Per Maglia sono subito scattate le manette e polsi con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'autorità giudiziaria per lui ha immediatamente disposto gli arresti domiciliari.